il cancro è diventato un problema importante sociale antropologico culturale economico oltre che di sanità perché c'è un incremento importante di tutti i tumori soprattutto nei paesi occidentali che ci porterà a un incremento sostanziale in tutto il mondo ripeto di tutti i tipi di cancro ciò dipende da tutta una serie di fattori ma restringiamo un po il campo a quello che è l'Europa e poi passiamo a quello che succede nel nostro paese cioè l'Italia in Europa fondamentalmente una ricerca appena pubblicata da Lancet ha dimostrato che c'è una valutazione un rapporto stretto meglio tra livello socio economico e culturale e il rischio di morte per alcuni tipi di cancro come se i nostri cittadini e i cittadini di questo grande continente fossero svantaggiati se culturalmente e economicamente meno evoluti rispetto a quelli culturalmente più economicamente evoluti non è soltanto un problema economico ma è anche e soprattutto un problema di tipo culturale cioè la poca attenzione agli stili di vita, l'incremento del fumo di sigaretta, l'uso smodato di alcol l'incremento del peso corporeo, la poca attività fisica, l'uso di alimenti che provengono tutti da industria quindi alimenti conservati in maniera industriale. Questo è molto valido in tutta Europa ma è valido soprattutto nei paesi dell'Europa dell'Est in cui c'è ancora probabilmente un retaggio di quelle che sono le problematiche dei regimi dittatoriali da cui sono state afflitte da queste popolazioni negli anni passati ma non è solo questo perché ripeto i casi di cancro aumentano anche nell'Italia il nostro sistema sanitario finché lo avremo è un sistema sanitario universale che garantisce a tutti diagnosi a cura ma le problematiche a livello delle differenze regionali perché abbiamo un sistema sanitario regionale quindi già diviso per 21 regioni è sicuramente diverso e lì c'è sicuramente il dato della mancata adesione agli screening ricordo ai colleghi medici e medicina in generale che lo stimolo a inviare i pazienti allo screening i tre maggiori screening sono per il cancro della mammella, per il cancro del colon e per il cancro della cervice oterina devono derivare proprio dai medici di famiglia che devono spingere i pazienti che non abbiano ricevuto o che abbiano ricevuto la famosa convocazione e non vogliono aderire a fare gli esami non perché l'esame ti evita di avere il cancro ma l'esame ti fa fare una diagnosi di cancro quando il cancro è molto piccolo l'esempio che cito sempre è quello del tumore del colon negli anni prepandemici l'incremento del sangue occulto fece poi della colonoscopia nel caso di possibilità fatto sì che in un primo momento ci fosse un piccolo incremento dei casi di cancro del colon e successivamente aumentando lo screening i cancri diminuivano perché si facevano le diagnosi sui polibri benigni che lasciati lì avrebbero dato cancro ma ha spostati quando appunto benigni il cancro non veniva più e c'è stato un decremento del 12% che è tanto in oncologia un decremento del 12% a livello nazionale dei casi delle diagnosi di cancro del colon è un dato importante immaginate quanti cittadini vivano senza questa diagnosi e quanto sia meglio per tutti anche per il sistema detto ciò se un cittadino non ha ricevuto la convocazione succede su qualsiasi sito di qualsiasi azienda ospedaliera c'è la possibilità di fare il recall e come società scientifica noi su questo lavoreremo perché purtroppo nelle regioni del sud e delle isole c'è un'adesione agli schini del 20% rispetto all'80% che è al nord e al 50-60% che è al sud che è al 100% scusate e questo è un disvalore è un disvalore che soltanto noi cittadini con il nostro tipo di attività e noi medici possiamo cercare di riequilibrare per far sì che questa pandemia insieme alla informazione sugli stili di vita insieme all'abolizione del fumo di sigaretta insieme alla riduzione del consumo di alcol dell'aumento dell'attività fisica e della diminuzione del peso corporeo possono far sì che possiamo difenderci pensate che il 30-40% di tutti i tipi di cancro si possono evitare banalmente aderendo agli screening o comunque modificando i propri stili di vita insieme all'uomo i tipi di ansi